Noi formiamo parte dell'equipo di disegno di Massimo Dutti e Mujer. Per noi è stato un piacere lavorare con l'Istituto Marangoni, che al final dentro delle scuole di moda è una delle scuole che ha più prestigio. Vediamo una scuola, vedere un'azienda così grande che è conosciuta in tutto il mondo, mi ha proprio emozionato. La relazione con i miei docenti è stata molto importante perché ci hanno seguito sin dall'inizio fino alla fine del progetto. Dare un feedback agli studenti con un progetto così preciso per un'azienda con un DNA così chiaro è stato importante ma in alcuni momenti anche difficile perché portare gli studenti a pensare come un grande brand pensa non è stato sempre lineare. Ho deciso di partecipare a questo concorso perché ritenevo il brand molto simile al mio gusto personale e al mio stile e la mia idea era appunto di creare qualcosa che fosse versatile. Hemos ido viendo come tutto il lavoro si è andato focalizzando e ha risultato in un lavoro unitario. I dettagli per noi sono molto importanti, abbiamo visto che hanno cuidado molto lo che è il dettaglio delle prende e c'è una coerenza di una prenda all'altra. Il feedback è stato super positivo perché abbiamo avuto la possibilità di confrontare con il team. È stata anche una soddisfazione perché siamo riuscite comunque a portare una collezione che è piaciuta a molti di questo. Sono molto felici, molto positivi. È stato molto soddisfacente. Io ai futuri studenti consiglio sempre di impegnarsi al 100% e se si ha una passione di inseguirla perché io parlo personalmente e se hai una passione veramente ti salva la vita. Grazie a tutti.